Ciao a tutti da Mr. Green. Oggi vi presento una pianta molto particolare che si chiama yucca. La yucca è un sempreverde, ricorda un po' una palmetta se vogliamo e adesso la vedremo durante la fioritura. Eccola qua. I fiori sono giallini, ricordano un po' il fiore del ciclamino perché è un fiore che guarda verso il basso. Sono riuniti in questi grappoli. Le foglie sono molto coriacee, abbastanza puntite e abbiamo detto che sono sempre verdi. Le foglie seccandosi creano un fusto che ricorda molto, abbiamo detto, la palma. Una pianta che sopporta i climi molto aridi e il caldo molto intenso. Mentre per quanto riguarda il freddo invernale lo può un po' danneggiare e quindi occorrerebbe metterla all'interno di giardini un po' protetti e riparati più che altro dal vento. Bene, questa è una pianta che si adatta a tutti i giardini, specialmente a chi vuole dare un tocco di esotico alla propria ruola. Grazie per l'attenzione e mettete un like se vi è piaciuto, iscritteti al canale e lasciatemi dei commenti se volete qualche video particolare. A raggiungimento di 20 iscritti al mio canale vi farò un video molto particolare su la moltiplicazione delle piante che potrete adoperare anche a casa vostra per creare le vostre piante che più vi piacciono. Ciao da Mr. Green.